segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te dice diceva questo non è il tempo della cautela questo è il tempo del coraggio e quindi bisogna continuare a mandare le armi bisogna sostenere gli ucraini fino in fondo e anche aprire le porte della nato ai paesi che vogliono entrare per lei concetto di coraggio e concetto di cautela perché poi dipende da che cos'è per noi il coraggio e che cos'è la cautela questo mi sembra a me sembra un concetto di irresponsabilità quello della sinistra degli esseri inglesi perché soltanto degli irresponsabili possono pensare che se si aumentano le armi che vengono mandate in ucraina e questo porta inevitabilmente allo scontro diretto fra la nato e la russia con tutte le conseguenze della guerra nucleare che come sappiamo adesso non ha bisogno di un permesso dei capi di stato ma può scoppiare da un momento all'altro perché ci sono c'è anche il nucleare a corto raggio e via dicendo che tutto questo bisogna il pericolo è tale che bisogna avere il coraggio del dialogo san francesco 800 anni fa ebbe il coraggio di prendere e andare a piedi a parlare col sultano durante le crociate fino ad istanbul ecco io vorrei che bisogna avere questo coraggio qui allora ovviamente la domanda è ma ammesso che noi abbiamo il coraggio del dialogo con chi dobbiamo dialogare chi è che deve andare a piedi dal sultano dopo la pubblicità la castellina resta con noi saluto tonia mastro buoni